Ciao a tutti, bentornati a Come è Fatto. Vi siete mai chiesti come sono fatte le cose che usiamo e vediamo tutti i giorni? Lo scopriremo qui a Come è Fatto. Le patatine sono una passione per grandi e piccini, si mangiano ovunque, ai picnic, al cinema, alle feste per bambini. Ma come saranno fatte? Adesivi per bambini, adesivi per grandi, veramente ce n'è per tutti i gusti. I bambini collezionano figurine ad attaccare sugli album, i grandi ci decorano le moto, in decorazione ormai ne fanno di grandissimi da attaccare sui muri e le signorine più vanitose ci decorano le unghie. Ma questi adesivi come saranno fatti?